negli episodi precedenti per vivere possiamo prendere solamente le armi che ci sono al muro e quelle le uova si utilizzare lega volgan e le bibite è stata la propria papà non lo so sono rosso sono morendo cioè non ci credo se resta dicendo veramente mi ha chiuso una parana dica solo questa una banana mi ha chiuso una banca come fa una banana a rinchiuderti vieni con la modalità bestia vieni con la modalità bestia guarda non mi è arrivata non mi è arrivata mi ha chiuso questa banana questa banana questa banana questa io non le vedo banana come puoi andare a chiuderti le banane presto morirò no dai veramente vai in afterla io mi trasformo te lo dico no 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 sono morto sono morto non prendere queste ammo per favore perchè le vorrei avere anch'io però veloce perchè scompaiono poi e lui le prende non finire il round per la morte del cielo no dai sono rimorso perchè perchè è arrivato dopo l'audio che l'ha aperto con la mia è raviola ho finito le munizioni eh perchè mi devo basta cioè no no basta io ora spacco il cd giuro ooooh oddio ooooh oddio oddio oh mi ha bloccato il palo del cancello mi ha bloccato il palo del cancello rossissima è proprio male ti faccio a prendere che va faccio male di qui crea il fatto arrivo di muoio guarda l'ho preso vorrebbe che vado mai la costi prego a ma che locus chiudi le uova anche già da sto punto anche perché fino a quando diventarono rosse credo che non saremo più vivi mamma dai vabbè sono morto è solo morto vabbè o l'orge di zombie addosso vabbè vabbè no 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 questa cosa deve andare a vedere no no e piccione no piccione 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 ti odio giuro se mi fai morire io ti faccio ti faccio del male di odio sono morto o certo non sai con che cosa sto girando io grazie prego dai però stiamo andando benino considerate che sono morto sette volte sì ma considerate che siamo senza armi quindi allora 15 ci siamo quasi ok solo che si lo so infatti se facciamo sperando praticamente ce l'abbiamo fatto ma che possiamo al 15 15 abbiamo fatto però allora prendo l'elmo io allora ragazzi davvero se ce la facciamo senza praticamente mica per meno war e tutte le armi delle uova veramente siamo dei grandi però tenti che ci saranno due marco e io ho trovato dei doppi punti completamente inutili ok lascia margo per ultimo ma impossibile dove giro io lasciarli per ultimo la so come faccio guarda che non so più dove girare ma donna rischiano capo perché mi devi richiudere da me sei andato lì capito come faccio io guarda c'è uno dall'altro uno dall'altro cosa facevo era un palino era un palino era mezzo al palino c'è io ero sì ho capito ho capito sì ho capito dai dai ce la dobbiamo fare un grande è rimasto non mi interessa quante volte non mi interessa un round no vai vai che culo che culo adesso non gli faccio più niente con la pistolina no non muore non muore non muore vai vai ok una testa anche gli zombie dovremmo aver finito e tre parti dei round ok no la nebbia attento che stanno ristorando attento agli zuzi si lascena uno sì 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 aia 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 oddio mio rischiata sono morto è te lo dico sono morto io 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 sono morto ti ricordo a bernardo in fronte room ma il problema che ci sono che culo che culo no 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 mi stanno bloccando ci provo ok corri ma se non c'era con le liste che erano eravamo morti e morti cioè tu non sai che cosa vuol dire morti aiuta ste barone che mi bloccano lascia l'ultimo mi sono bloccato nel muretto mi sono bloccato nel muretto non possiamo morire con gli ultimi zombie no 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 trasformati io l'ho levato sono levato che cosa madonna chi è che mi spara trasformati trasformati come no prendi kaboom dai capo non fare minchiate no no però è stata divertente mi è piaciuto mi è piaciuto è stato divertente ma cosa mi è piaciuto è stato divertente 14 a tre zombie dalla fine no cioè sono morto otto volte ma ne è valsa la pena giuro bello mi è piaciuto divertente dai ci sta allora spero che questa secondo challenge o junction challenge mi sia piaciuta se è così lasciato mi piace per le povere vittime che hanno perso 34 zombie e 2 margua dalla fine e se volete magari ve la riproporremo in futuro questa challenge per esempio face faremo un altro episodio anche in più di due persone mi dispiace non essere arrivato a rond 15 come era il nostro obiettivo ma avete visto che le armi nelle uova erano cioè non c'erano non è non è che erano non c'erano proprio e quindi insomma è stato non un fiasco però comunque spero che questo video vi sia piaciuto se è così toni cosa devono fare lasciate un like un bel commento e noi ci rivediamo al prossimo video o fine se ragazzi